Lo sbocco professionale per il manager della ristorazione è uno sbocco, direi, in questo momento economico di sviluppo di tutta la filiera dei servizi molto importante, in quanto il plus di ricevere questa formazione consente di potersi collocare all'interno di imprese di ristorazione, industrie alimentari che danno la possibilità di far conoscere i propri prodotti, quindi andarli anche a promuovere all'interno di aziende della ristorazione, presentando quella che è la cultura sia del prodotto che del servizio. Credo sia un'opportunità decisamente importante, non bisogna però banalizzarla, essere manager della ristorazione vuol dire passione, avere cultura del cliente e soprattutto ossessione del dettaglio. Quindi le aziende che sono alla ricerca di questi valori daranno grosse opportunità ai manager che vengono fuori dal corso di Alma, a cui auguro un successo molto importante in questo settore. Grazie. 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 Grazie.